Grazie Pasquale, andiamo subito ad entrare nella piattaforma, quindi tu effettua tutte le operazioni propedeutiche, evitando anche di far vedere i tuoi dati, non vorrei che qualcuno prendesse spunto, poi quando mi dici quando sei direttamente dentro il sistema, così guardiamo la domanda. Si vede? Ecco, vediamo se si vede, perfetto, si vede. Perfetto, allora come dicevamo, quindi partiamo subito con la domanda di assistente tecnico, che come vedete in alto a destra, nelle azioni, c'è scritto confirm, però vedete anche il cerchio rosso, il diritto di fare delle operazioni, perché innanzitutto bisogna procedere con dire al sistema di operare delle modifiche. Perché incominciamo da questa conferma? Perché personalmente sono inserito come assistente tecnico nei precedenti tre anni, sono addirittura inserito non con il titolo attualmente richiesto, ma con il titolo congiunto, perché fino al 2005 ricordiamo che poteva essere richiesta l'area di assistente tecnico anche con titoli congiunti, quindi diploma più qualifica 845 del 78, e quindi vediamo che le azioni disponibili appunto sono la conferma dell'assistente tecnico. Ma io vado a modificare, perché come dicevamo prima, voglio fare l'aggiornamento, non la conferma, al fine di evitare di perdere appunto le preferenze, i titoli di preferenze che avevo indicato all'epoca. Quindi come vedete, operazione prescinta, aggiornamento, profilo di assistente tecnico, il sistema ci ricorda che abbiamo la certificazione internazionale di affabilizzazione digitale che è mancante rispetto al requisito culturale attualmente richiesto. E quindi nelle azioni disponibili posso andare quindi a modificare e visualizzare con qual d'altro. Quindi vedete qui c'è la decidura del diploma della scuola secondaria corrispondente al settore professionale, con un anno di conseguimento, titoli di conseguenza all'estero, non ho titoli di conseguenza all'estero, certificazione internazionale di affabilizzazione digitale, ho l'opportunità, come dicevamo, o di poterla indicare se in possesso, e quindi indico il titolo della certificazione e l'istituzione che ha rilasciato la certificazione con la data di conseguimento, oppure più semplicemente posso dichiarare e quindi impegnarmi a conseguire la certificazione di affabilizzazione digitale entro il 30 aprile del 2025. Perché come tutti sappiamo abbiamo un anno di tempo per poter conseguire questo ulteriore titolo congiunto richiesto dal nuovo CCNL. Molto importante è la modalità di accesso, che voi qui già vedete e prestabilite, perché la modalità di accesso, possiamo leggere la leggenda sotto, la modalità di accesso F riguarda appunto la conferma oppure l'aggiornamento del titolo. E come vedete la sessione è stata salvata con successo. Potrei avere dei titoli culturali e delle ulteriori certificazioni, quindi diciamo che le azioni disponibili potrei inserire, perché è previsto dal profilo professionale, un eventuale diploma di laurea, una laurea magistrale, una laurea specialistica, l'idoneità concorso che ricordiamo deve essere specifica per il profilo professionale per il quale si concorre, e una certificazione informatica digitale, che ricordiamo deve essere aggiuntiva rispetto alla certificazione di alfabetizzazione digitale, che invece ci consente l'inserimento. Quindi simuliamo di avere un diploma di laurea, una laurea, il sistema ce lo ricorda, che ha messo un solo titolo, aggiungi titolo, e qui possiamo poi andare a titolo di laurea, per esempio, laurea magistrale in giurisprudenza, ok, votazione conseguita diciamo 90 su 110, istituzione presso la quale si è conseguita la laurea, dati di conseguimento 13 luglio 2022, non abbiamo titoli conseguiti all'estero, e vediamo che titolo è stato salvato con uno successo, quindi lo spuntamento ci ricorda e ci indica che allo stato attuale abbiamo inserito un titolo aggiuntivo che ci darà due punti nel caso di specie. E così poi le stesse operazioni verranno poi fatte eventualmente per l'indonità al concorso, dove potremmo aggiungere il tipo di profilo professionale, l'istituzione che ha indetto il concorso, data e tipo di bando, ricordiamo che una volta deve essere specifico, e la certificazione digitale ulteriore a quella che consente l'accesso. E non ricorda anche il sistema di certificazione deve essere appunto diversa da quella di alfabetizzazione. Andando indietro, quindi dicevamo, sul profilo di assistente tecnico, abbiamo compilato la sezione legativa ai titoli culturali e le certificazioni informatiche, abbiamo i titoli specifici di assistente tecnico che possiamo vedere, questi sono dei titoli relativi alla patente T e al patentino per la conduzione di caldaia a vapore che sono specifici appunto per determinate aree di laboratorio. mentre, come potete, vedete sul titolo di assistente tecnico, il titolo di studio, vedete che qui già c'è inserito, perché abbiamo detto che siamo di fronte ad un aggiornamento, abbiamo il TD05, che è il ragioniere programmatore mini-esperimentale, quindi parliamo di un diploma di ragioniere, perito commerciale e programmatore, che ci dà l'area, ci dà il codice TD05, che, come dicevo, fino all'anno 2005, abbinando un diploma di maturità con una qualifica 845 del 78, e che è il caso quindi del titolo di studio di operatore di elaborazione d'anni, oggi è l'elettrizza, appunto, costituisce il mio titolo di accesso all'area. Per quanto riguarda i titoli, le scelte preferenze delle sedi, qui vedete che ci sono le sedi che erano state precedentemente scelte. Posso operare con particolare elasticità all'eliminazione di una sede, se non voglio più questa sede, posso tranquillamente aggiungerne una nuova e scegliere ad esempio un comune che comodamente dal menu al tendine ci sarà l'elenco di tutti i comuni. Quindi io scelgo ad esempio un comune a caso e chiedo al sistema di cercare le istituzioni presenti su quel comune e sono quattro istituzioni scolastiche. Come vedete, le ultime due sono in grigio, sono di colore sfumato, perché sono state già espresse, ma ho la possibilità invece di esprimere queste altre due scuole. Sicuriamo di scegliere una, seleziono, e l'operazione è stata completata anch'essa con successo. E quindi come vedete giù, in basso a destra, abbiamo tre pagine che rappresentano l'elenco delle istituzioni scolastiche che siamo andati praticamente a scegliere nel velo e nel velo e nel velo e nel velo. Andando indietro, quindi, nei titoli di servizio, oggi il servizio è già precaricato, valutato, non ho altri servizi da importare, perché il sistema dà anche la possibilità di poter, attraverso le azioni disponibili, semplicemente importare il servizio. Qualora un servizio preso, non fosse presente all'interno della pagina, nessun problema, possiamo semplicemente andare a dire aggiungi servizio, e qui andremo a compilare questa sezione. Quindi, anno scolastico 2020-2021, istituzione scolastico, il C da Vinci, diciamo che l'abbiamo fatto quindi nella provincia di Caserta, Caserta, nel comune di Caserta, eccoci qua, l'indirizzo via albero, giusto così per simulare, in qualità di assistente tecnico, indicherò la tipologia del contratto di ruolo o non di ruolo, e poi mi si apre il menu a tendina sulla tipologia, perché dice scuole statali, oppure italiane all'estero, progetti promossi dalla regione, scuole non statali, quindi scuole maritari, amministrazioni ente locali. Chiaramente nel nostro caso si tratta di scuole statali, e dobbiamo indicare istituzioni. Abbiamo detto che l'anno 2021, quindi da 1 settembre 2020 a 30 giugno 2021, chiediamo di calcolare i giorni al sistema, che sono 300 e 3 giorni, e chiediamo appunto di inserire. Va beh, il servizio si sovrappone, insomma perché abbiamo messo lo stesso periodo di servizio. Detto questo, finisce la parte di titoli di servizio, incomincia quello delicato che dicevamo all'inizio, delle preferenze, dove praticamente questi titoli, nel caso di conferma, verranno persi, anche se ancora posseduti, da parte dell'aspirante. Vediamo che nei titoli di preferenza, io non voglio perderli, quindi ho chiesto l'aggiornamento, e vado ad esempio a dire di essere in possesso di lodevole servizio, perché io ho prestato almeno un anno alle dirette dipendenze dell'amministrazione il servizio. La sezione è stata compilata correttamente, andiamo invece alle altre dichiarazioni, e queste sono le dichiarazioni dove dicevamo in premessa di tenere particolarmente cura e attenzione di queste dichiarazioni, quindi si tratta della cittadinanza, quindi di essere cittadino italiano, di avere un'età, vingolo di età non inferiore ai 18, ma non superiore ai 67, tenendo in considerazione la data del 1 settembre 2024, di godere dei diritti civili, l'obbligo di leva, le liste elettorali, e poi di non essere dispensato di perdere i labbi interdetti, e soprattutto quella relativa alle condanne penali e ai procedimenti penali, perché ci soffermiamo velocemente solo un istante su questa scambata, perché sostanzialmente molto spesso viene trascurato anche per dimenticanza, anche per mero errore di essere praticamente, di avere avuto magari una condanna banale, voglio dire, particolarmente vecchia e datata, e quindi non si dichiara. In realtà bisogna assolutamente dichiarare tutto, perché sarà poi l'amministrazione che dovrà procedere ad una verifica di quelle che sono le incompatibilità connesse alla sentenza. e quindi all'eventuale condanno al carico vendente. Quindi dichiariamo di essere iscritti nell'anestria elettorale del comune di agrigento, di non essere destituito, di non essere decaduto, di non trovarsi in gabinetto, di non avere condanne penali, non avere procedimenti, di non essere un dipendente dello Stato, di donità fisica, l'autorizzazione al trattamento di dati personali. Relativamente alla lingua slovena, di avere una conoscenza di base per la lingua slovena, non è questo il nostro caso, e poi andiamo a chiudere con il trattamento di dati che abbiamo saltato. Eccolo qua, inseriamo, e quindi le altre dichiarazioni sono state regolarmente inserite. A questo punto, come vedete, si è colorato anche il tasto in ultra, e sarà possibile da questo momento in cui procedere all'invio della nostra domanda. Ma noi abbiamo detto che dobbiamo procedere anche con una domanda di inserimento. Quindi la facciamo, la simuliamo in qualità di assistente amministrativo, diciamo al sistema di andare avanti. Come vedete, nella prima parte c'è l'assistente tecnico che ci ricorda che abbiamo aggiornato la domanda, nella seconda parte invece ci ricorda che siamo nella fase dell'inserimento. E in quanto tale ci ricorda un'altra volta in russo che praticamente non abbiamo la certificazione internazionale di alfabetizzazione. Anche qui dobbiamo realizzare le due sezioni che sono questa relativa ai titoli di accesso quindi dichiariamo di avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado dell'averlo conseguito nell'anno 2021 con una votazione diciamo di 73 00 su base 100 e quindi si sembra ci calcolare il nostro punteggio che è di 7,30 indichiamo l'istituto dove l'abbiamo conseguito diciamo di averlo conseguito il 13 luglio del 2021 e analogamente a quando era previsto per la domanda di aggiornamento entriamo nella fase dei titoli esteri se in possesso del titolo estero oppure della certificazione di alfabetizzazione anche qui analogamente spunterò di non essere in possesso della certificazione di alfabetizzazione digitale e la modalità di accesso questa volta non è quello di aggiornamento o conferma bensì è la modalità di accesso a perché dice di non essere inserita qui nel titolo nelle gradore permanenti negli alenti ad esaurimento nei gradori provinciali di collaboratore scolastico nelle correlate di ciclo e di istituto di prima fascia e quindi come vedete anche qui la domanda di inserimento titolo di accesso è stato salvato con successo e poi andiamo quasi in chiusura di questa prima parte per i titoli culturali e le certificazioni informatiche che possiamo e dobbiamo compilare nel caso in cui sottolineo trattasi del possesso di titoli aggiuntivi quindi in questo caso se sono in possesso ad esempio di un attestato 845 del 78 o del DL13 2013 delle donità a concorso pubblico che si riferisce sempre ad un solo titolo e sempre per il profilo professionale corrispondente indicando l'istituzione chi lo ha bandito indicando la data benissimo e il tipo di vostro assistente non sopra insomma assistente comunale comunale o qualcosa del genere spesi per l'accesso va bene perché qua l'abbiamo messo anche per l'accesso allora quindi l'idolità la riprendiamo allora aggiungiamo il titolo altro concetto istituzione scolastica 13 luglio 2021 assistente e qui va bene questo non possono essere dichiarati come titoli culturali titoli spesi per l'accesso perché è stato già praticamente speso per l'accesso perché deve essere un titolo diciamo così aggiuntivo possiamo quindi dichiarare l'addestramento professionale per la datilografia e le certificazioni di informatica quindi diciamo che la datilografia è stata conseguita tramite un concorso diciamo così bandito dallo Stato o dalle sue varie articolazioni e come abbiamo potuto di fatto vedere non abbiamo delle grosse difficoltà in questo tipo di domanda in questo tipo di sezione perché poi le sezioni di titoli di servizio di preferenza e di altre dichiarazioni praticamente sono collegate a quelle già dichiarate per gli altri profili questo diciamo così Andrea è in linea generale la procedura di inserimento o aggiornamento prego scusami Pasquale è giusto che preciso una cosa vedo che i nostri utenti stanno facendo domande ce lo chiedono anche alcuni lettori non c'è nessuna risposta perché semplicemente stiamo facendo vedere la piattaforma le domande come ormai consuetudine si fanno dopo dopo la chiusura della diretta ecco quindi Pasquale andiamo con la seconda parte del video tutorial poi lasceremo 15-20 minuti di spazio dedicato al question time vi ricordo poi che la classica trasmissione question time quindi con le domande e le risposte sarà poi inizierà poi da domani vai prego quindi abbiamo concluso sia la parte dell'aggiornamento che era la conferma ma che noi come abbiamo detto abbiamo tramutato l'aggiornamento al fine di non perdere le preferenze dichiarate del precedente triennio che sono e che devono essere ovviamente ancora in capo alla dichiarante e una domanda di nuovo inserimento quindi le domande sono sostanzialmente diciamo così ma l'inoltro si conclude nell'inoltro che adesso vediamo un attimo solo le condividiamo e vediamo che con l'inoltro le vedete ecco aspetta che la vediamo le rimettiamo ecco qua perfetto allora quindi dicevamo avevamo le sezioni comuni abbiamo inserito la domanda di aggiornamento abbiamo inserito la domanda di inserimento possiamo chiedere di notare al sistema e confermare che così partirà la nostra domanda per la scuola di destinazione quindi dove abbiamo chiesto la scuola dove abbiamo chiesto di essere capofila che so